Vetri spaccati, scrivanie rovesciate e fascicoli completamente sotto sopra, un'incursione all'interno degli uffici dei servizi sociali del comune di Arezzo. Questo è inqualificabile assolutamente, servizi sociali voglio dire quelli che danno aiuto proprio ai più diseredati, quelli che sono più in difficoltà e quindi è ingiustificabile. È successo sabato pomeriggio quando dei malintenzionati sono entrati dai cancelli della corte interna ed hanno forzato la porta per accedere alle stanze. Una volta dentro hanno spaccato i vetri delle finestre, ribaltato tavoli, sedie, scrivanie ed aperto cassetti, danni per centinaia di euro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Arezzo. Non sono stati fatti danni grossi ma comunque sono stati mani messi gli archivi, quindi c'è da capire se manca qualcosa oppure no, c'è da capire da dove viene tutto questo. Saranno comunque proprio i servizi sociali adesso a verificare che dagli uffici non siano stati trafugati i fascicoli, cartelle o dossier personali. Cercheremo di ricostruirlo in una maniera migliore per capire forse anche da quello che manca all'origine di questo gesto. Sicuramente non un furto perché tutti gli oggetti di valore sono stati ritrovati all'interno degli uffici, computer, tablet e quant'altro. Sì, quindi sembrerebbe più un furto di informazioni che altro. Varie adesso le ipotesi al vaglio degli investigatori. Non sono infatti da escludere rispetti o ritorsioni nei confronti degli stessi servizi sociali del Comune. Grazie. Grazie.